Salve ragazzi, in questo video parleremo di sistema. Cosa significa oggi essere una pedina del sistema? Cosa significa oggi fare parte del consumo e della società di massa? Il sistema è corrotto ragazzi! Siamo pronti, fuoco. Mamma mia, prima la faccia non soffri. No, no, fa parte del sistema. Allora, quando aprirò questa scatola e anche questa, questa, sarà ufficialmente una pedina del sistema. Entriamo a tre, due, uno. La manipolazione sistematica non è esistente in realtà, perché se tu credi di non poter essere intaccato dalle realtà altrui, non sei intaccato dalle realtà altrui. Però siccome siamo in una trappola statale... Dove tutti pensano di essere intaccati dagli altri, noi siamo intaccati dagli altri. In questo modo tutti manipolano gli altri, ma non riescono a governare la propria vita. Cercano di governare la vita altrui, ma non governano la loro. Che mi interessava... E io sono un'appellina del sistema. E che in questo video che abbiamo... Allora, siamo qui stasera e stiamo parlando sul capo Santa Margherita. Il sistema, e che relazione c'è tra il sistema d'Italia, il meccanismo commerciale... Andiamo a me! E' al giro a te questa domanda. Ma... Di che sistema mi stava passando? Il sistema economico e sociale. Successivamente ci sembrava utile condividere questo discorso con delle ragazze che non potessero capirci quasi niente come un tentativo di scoprire come potessimo fare dei discorsi complicati e soprattutto approfondi con delle ragazze giapponesi o coreane che non potessero capire quasi assolutamente niente. Nel secondo caso hanno risposto in maniera molto intelligente. Però purtroppo non si capisce niente lo stesso. No perché... No, un momento... No! Questo video... No, no, no... Giappone. No, ci ricacchiamo che è difficile. Abbiamo bisogno di rinforzare in direzione... Stored, stored, stored Passo, pò, pò stored lo spiegelo al prossimo stored stored è non loerto adesso ci sono a sapere e ascoltare insieme A desistare av verso ... What do you think about the system here in Venice and what do you think about the system here in Venice? I think here in Venice, students can register its exam. It's very good, I think. Because in my country, after taking... I mean, in here, after taking some good courses at home, after taking some lessons from the courses, I think it's very good. I think it's a good thing. But then I told myself, no, no, this is not the system. I don't understand. I don't understand the system. But then I said, let's continue doing interviews, let's continue. We'll continue. ... ... ... ... Per parlarci e per fare delle interviste, perché secondo me le... La problematica non è esistente in realtà, perché se tu credi di non poter essere intaccato dalle realtà altruine... Ognuno di noi ha un padre a scuola... Eravamo in cerca di ragazze... Tu credi di non poter essere intaccato dalle... Se mi davano queste decisioni... Però siccome siamo in una trappola statale dove tutti pensano di... Solo per le zanzari... Noi siamo intaccati dagli altri, in questo modo tutti manipolano gli altri... No, mai, almeno non lo ricordo, magari da piccolo si dice... Prima non riescono a governare la propria vita... Cercano di governare la vita altrui, ma non governano la loro... Delle ragazze che noi stavamo cercando... Delle ragazze che noi stavamo cercando... Delle ragazze che noi stavamo cercando... Via 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 via... Questi erano fatte tutte a tempi ingrè... Che si installavano nella vera cosa... Città... Atele... Atele... Compri una oggi... Le compri una domani... No, perché per esempio oggi... No, perché per esempio oggi... Eh no, che per esempio oggi... Che a un certo punto stavamo parlando di... Città... Stiamo qui... Costumivi con... Città... Città... E... Anno... 1.570... E... E... Alla prossima notizia... E... Facciamola... Però... Prima hanno detto che devono finire di mangiare... Andiamo a fumare una cagna... Adesso mi sono rotto i coglioni... Non so niente di sistema... Se lo so non posso dirlo... Potrei scoprirlo ma non posso dirlo... E... Ci parli della manipolazione sistematica... Sbizzantini... Artista... Interessante sapere come questo sistema... Qual è questo gruppo... È destinato a rompersi... In qualche modo questo gruppo... È il simbolo del sistema più grande in cui siamo inseriti... Prima o poi infatti... Esso si romperà... In favore di un altro sistema... Oh...